Un saluto a tutti, sono Roberto Romagnano, il più giovane candidato nella provincia di Lecco per le prossime elezioni regionali, nella lista con Ambrosoli presidente e patto civico. Io non penso che i politici siano tutti uguali e non penso che la politica debba fare solo chi conosce come va il mondo degli affari e quello delle promesse con le dita incrociate. Io non credo assolutamente che legalità voglia dire mi hanno beccato e che onestà significhi non vincerò mai. Per questi motivi ho deciso di candidarmi e questi sono i punti che sosterranno il mio impegno politico e civico. Le politiche ambientali e di sviluppo del territorio devono essere orientate al consumo zero di suolo, a una maggiore tutela delle aree verdi, a una riduzione delle emissioni di CO2. La cultura deve essere intesa come strumento di crescita alla portata di tutti e la trasparenza come criterio imprescindibile per l'esercizio della democrazia. La sanità deve essere finalmente pulita, svincolata da ogni interesse privato e lontana da ogni logica clientelare, soprattutto per quanto concerne la selezione del personale. Merita particolare attenzione anche il mondo della disabilità, che non ha mai avuto un punto di riferimento vero e proprio nelle istituzioni. Penso che sia fondamentale il coinvolgimento attivo dell'energia e dell'entusiasmo dei giovani nelle scelte politiche della Regione Lombardia. Infine ritengo che la legalità e l'etica nel rispetto delle regole debbano essere i cardini di ogni scelta politica. Questi sono i miei obiettivi, che porto avanti senza il sostegno di alcun partito, forte perché libero appunto, nel nome di nessuno se non di chi come me, crede e merita una Lombardia migliore.